Chiunque nel campo immobiliare vi dirà che alcune case sono più difficili da vendere. Qualcosa in esse non convince. Situazioni strane, suoni strani. Era un urlo, so riconoscere un urlo, se lo sento. Ah, era un urlo! Qualche volta è una sensazione... appena accennata. E altre volte è più... evidente. Ed è lì che arrivo io. Salve. Ma chi è lui? Chi è? Un prete? No, direi di no. Sono un agente immobiliare. E gli agenti immobiliari? Meglio non parlarne. Meglio di no. Questo sono io, Luke Roman. E all'agenzia Roman vendiamo quelle case che nessun altro può vendere. Per riuscirci, ho messo su un team selezionato di professionisti in diversi settori. Quali ricerca, tecnologie all'avanguardia, vendita e marketing, Cosa cavolo era quello? Tuvi rumorosi? E... Supporto amministrativo. Un bel caffettino? No, grazie. Insieme, indaghiamo sulle case con strane creature. Beh, è una presentazione per cui non abbiamo mai realizzato una brochure. Aiuto! C'è qualcosa di antico e molto arrabbiato qui dentro. Queste cose sono come l'effetto Ser, l'esufficienza epatica o il coniglietto di Pasqua. Che tu ci creda oppure no, possono farti male. Il coniglietto di Pasqua fa male. Oh cielo. Oh, andiamo. Gesù mio. Non capisco niente di questa robaccia. Sono vendite immobiliari, ma possono diventare vendite inquietanti, vendite imprevedibili, vendite pericolose e vendite veloci. Surreal Estate, perché anche le case stregate vanno perdute. Io credo anche che sarà molto interessante lavorare per te. Credo che tu abbia ragione. Grazie a tutti.